E con i diritti umani che si alza il sipario sulla quattordicesima edizione del B-Fest, Bari International Film and T-Fu Festival che da oggi e fino al prossimo primo aprile invaderà la città di Bari, otto giorni dedicati al cinema ma non solo, film, mostre, dibattiti assolutamente attuali che iniziano con Rumors, Human Vibes, che è appunto il documentario dedicato ai diritti umani di Simona Cocozza, regista e prodotto con e da Amnesty International insieme alla collaborazione di tutti quegli artisti della musica che si sono fatti portavoce della causa dei diritti umani nel mondo. Abbiamo voluto sviluppare la voglia di raccontare quelle che sono la violazione dei diritti umani attraverso appunto il canto, attraverso la musica, cioè la conoscenza come poi una tematica molto scomoda e anche molto brutale essere raccontata, venire raccontata in maniera più fruibile. E per farlo la regista ha tinto dalle immagini di archivio di Amnesty International, spesso non utilizzate dai media proprio perché troppo forti nella loro cruda verità. I cantanti spesso invece ci aiutano a raccontare qualcosa che spesso appunto è difficile da vedere. Tra gli artisti protagonisti del documentario anche il musicista siciliano Roy Paci, presente in sala in occasione della proiezione. Io ad esempio in prima persona appoggio questa organizzazione dal lontano 2001, da quando ci siamo conosciuti nel tour di Radio Bamba Sound System con Manu Ciao. È stato un momento molto bello, ho conosciuto lì Riccardo Nuri, quindi ho continuato a supportarli. Però sono felice perché siamo tanti, non siamo soli ed è proprio quello il bello che c'è, un bel collettivo che si è creato attorno a questa importante realtà. Prende così il via la Kermes culturale tra le più attese di Puglia che per il territorio si conferma anche un importante attrattore per il turismo.